Ciao a tutti! Il nostro stampo per ravioli è progettato per farti risparmiare tempo e fatica in cucina. Basta appoggiare lo stampo sulla pasta ripiena e premere per tagliare e dare forma ai ravioli. Il tagliapasta in ottone è robusto e resistente, mentre il manico in legno naturale offre una presa comoda e aggiunge un tocco di eleganza alla tua cucina. Con così tante opzioni tra cui scegliere, potrai creare una varietà di forme e dimensioni di ravioli, adatte a qualsiasi ricetta. I nostri stampi per ravioli sono prodotti in Italia da artigiani esperti che mettono perizia e orgoglio nel loro lavoro. Ciao e a presto!